Benvenuti in questo nuovo gameplay di GTA Vice City. Faremo un'altra missione. Rissa nel vicolo. Che cosa sembra che si sminffa un sacco di coca? Ah, ho capito! Ok, c'è questa slime, alcuna industria di slimeball di musica, che va dal nome di Kent Paul. In ogni caso, lui ha il suo naso così vicino, che se qualcuno conosce il quale c'è, ha 27 visualizzazioni. Spero che sarà un successo questa serie gameplay, che secondo me... che durerà proprio per parecchio tempo, perché ha molte missioni, eh. Ne ha parecchio. Ok, vanno ormai due truaghe in poca. Probabilmente dovrebbe conoscere anche lui Ken Rosenberg. ... ... ... ... ... dal momento. ... ... ... ... ... ho appena sbarcato gli avversi siti che prima eravamo proprio in galera per 15 anni bella coppa di quello lì che io sono il governo andy mi sono state se non ti voglio non ti preoccupi vieni a fare sei 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 sono un'unico di Rosenberg 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 oh questo è un'ambulanza chaser questo è un'ambulanza può proteggere un'unico all'unico all'altro al giro getci un altro drink a tutti è un comodio Listen to me, I'm missing 20 keys and a lot of cash Drudge mate, it's a muds game What do you know about it? Oi, oi, what I was coming to was There's some chef come trumpet shifter Who deals that kitchen of Hotel and Ocean Drive He's been looking real pleased with himself lately You could go and check him out I will And I'll be seeing you around Yeah, that's right, go and walk away your mug And not you spark out Give me a drink And where's that slut? Amare E' un tizio bigacone, sto che and Paolo Ok, dovremmo andare Dallo chef Secondo me dovremmo Forte di teletro Che in questo momento Che durante il corso Durante le prossime missioni Riceveremmo proprio delle chiamate Ok, dovremmo sparcargli la faccia Ok, pensiamo fino alla morte Ok, se ho coso la giubbottando i pochetti perchè lo Che so che Ce l'ho acquisito Adesso puoi ricevere Telefonate Oh, way to go tough guy Beat him to a pulp That should make him real chatty You want some too? Hey, chill I want what you want, brother Oh yeah? And what's that? You're green Me and my dead brother's white lady Unfortunately, you just silenced Ali Accidents happen, get lost Hey, hey, whoa No need to go all long range on my ass The way I see it We two hombres in a strange town We need to watch each other's back My back's just fine, brother You sure about that? Yeah, take this Follow me This way One thing you got to realize about this town You got a pack to me We're in gun shops a couple of blocks away In the first episode Well, I've just set my own music I've had to put an electronic music I've just been able to use my own music The lyrics Let's get it to my own music Ok, I've got a music I can't remember I can't remember I can't remember un po' di munizioni mi servono per andare al meglio, alcune missioni difficili ovviamente vabbè, completando le missioni si bloccano, magari si possono bloccare le rame acquistabili secondo me, alcune armi non di... di fare acquistare solo dal... alcune... ho la vetina sfondata ok, termino anche qui questa video template, i gittiafascidi, la posso trovare insieme tutta, alla prossima, ciao! ciao!